Musica Nuovamente ben ritrovati, siamo qui con Piero, referente del progetto Anduma e attualmente servizio civilista in Acmos. Piero, vorrevo chiederti un po' che cos'è Anduma e che cos'è che fate? Ok, Anduma è un progetto che nasce dalla sinergia tra Acmos, Libera e l'ufficio dei servizi sociali dei minorenni. Quest'ultimo organo prende in carico dei giovani ragazzi che hanno commesso dei reati e ce li segnalano pensando che l'esperienza con noi possa far bene alla loro crescita. In particolare noi cerchiamo semplicemente di inserirli in un contesto virtuoso permettendo loro di esprimersi e di imparare ad ascoltare e mettendosi al servizio dell'altro tramite una serie di attività che li vede o protagonisti oppure fruitori in un certo senso. Ok, parlando di autonomia che è stato un po' l'argomento centrale del convegno di oggi, tu hai detto che autonomia è anche un modo per liberarsi di stereotobi e pregiudizi. Ci vuoi commentare un pochino questa frase? Sì, assolutamente. Io credo che Anduma sia un bel modo per i ragazzi di fare un processo verso il raggiungimento dell'autonomia, ma credo che questo sia possibile anche per gli operatori che lavorano con i ragazzi. E in questo senso credo che avere la possibilità di lavorare con giovani che sì sono inciampati nello sbaglio del reato, ma che sono molto di più rispetto al reato che hanno commesso, stare con loro, vivere con loro, parte della loro vita, parte della loro settimana, permette proprio di scoprire quella profondità che va al di là del reato commesso. E quindi di provare di andare al di là di quell'etichetta, perché l'etichetta di Reo porta con sé un immaginario di per sé, e noi proviamo a fare il passo successivo e andare oltre. Tant'è che una prerogativa del gruppo è proprio quello di non voler conoscere a priori il reato commesso dai ragazzi. Se loro decideranno di raccontarcelo, noi saremmo pronti ad ascoltarli, ma non è il presupposto principale da cui partire per relazionarsi con il ragazzo. Ringraziamo Piero per la disponibilità e per oggi da Volonbrite è tutto. Grazie. Ringraziamo Piero